Esiste un'auto con motore d'acqua che può percorrere 5.000 km con un litro d'acqua Esiste l'auto con motore d'acqua che rivoluzionerà il mondo automobilistico L'inventore italiano con cui nessuno d'ascolto perché le lobby non vogliono ha inventato il motore d'acqua che rivoluzionara l'automobile 5.000 km con 5 litri d'acqua, con un litro d'acqua, solo vapore allo scarico Insomma, è vera questa cosa Scopriamo in questo video Allora, questa fantomatica invenzione circola in rete da almeno 10 anni E prima di continuare col video, come avrete capito anche dal titolo Sì, è una bufala, anche bella grossa Ma capiamoci meglio perché è importante capire il perché delle cose per anche in futuro saper riconoscere una notizia quando è vera, quando è falsa Dunque, l'auto idrogeno non è una novità, non è un'invenzione incredibile Esiste già in realtà, esistono sostanzialmente due possibilità di creare e avere un'auto che funzioni principalmente a idrogeno o esclusivamente a idrogeno E sono queste due qui, sono la Fuel Cell Electric Vehicle, quindi FC e EB O le Hydrogen Internal Combustion Engine Vehicle, cioè sono le auto che hanno un motore a combustione interna prettamente quasi tradizionale Che viene alimentato non con una miscella di benzina e aria ma con idrogeno Le prime invece sono quelle che hanno al loro interno un serbatoio, le Fuel Cell Electric Vehicle Che hanno un serbatoio al loro interno di idrogeno che deve essere riempito come fosse il serbatoio di benzina Questo idrogeno viene trasformato in elettricità a bordo del veicolo tramite una Fuel Cell Questa elettricità viene un po' immagazzinata in una batteria agli ioni di litio e poi direttamente usata in un'altra parte per alimentare un motore elettrico Quindi l'auto è essenzialmente un'auto elettrica la cui elettricità deriva proprio dalla Fuel Cell alimentata a idrogeno Ora queste due tipologie di auto esistono già, la Fuel Cell Electric Vehicle esiste già da tanti anni Toyota ha investito su questa tecnologia ma non solo, anche marchi coreani ma anche BMW se non sbaglio Comunque esistono già in commercio quindi sono acquistabili perché in molti paesi si stanno cominciando a diffondere Le prime stazioni di rifornimento di idrogeno, quindi di idrogeno pressurizzato Questa tecnologia vi ho già spiegato in tanti altri video perché non è tanto efficiente, non è tanto conveniente Per questo non prende piede così tanto, perché? Perché essenzialmente è un'auto elettrica, no? L'auto elettrica ha bisogno quindi di elettricità Noi possiamo direttamente ricaricare l'auto, come se fosse un'auto elettrica Direttamente con l'elettricità prodotta dai sistemi di produzione di energia elettrica Diciamo nel mondo, nella rete elettrica nazionale E quindi avere soltanto questo passaggio, creazione di energia elettrica fuori dall'auto Ricarica dell'auto con questa energia elettrica e utilizzo dell'energia elettrica con motori Nel caso di un'auto elettrogeno a fuel cell invece abbiamo tanti passaggi Perché l'elettricità prodotta a livello nazionale viene utilizzata per creare idrogeno Mediante elettrolisi Questa elettrolisi ha un rendimento dell'80% circa Quindi non è proprio efficiente al 100% Quindi un po' viene persa Poi questo idrogeno viene ad essere trasportato alle stazioni di rifornimento Deve essere poi pressurizzato all'interno dei serbatoi del veicolo Deve essere trasformato di nuovo in elettricità dalla fuel cell Con un altro rendimento di circa il 60% attualmente E poi utilizzato dal motore elettrico Ci sono una serie di passaggi in più totalmente inutili Diciamo è l'unico vantaggio e quello che è più simile da usare a un'automobile tradizionale Perché fa il rifornimento in pochi minuti L'altra tipologia è quella con un motore a combustione interna alimentata direttamente a idrogeno Ma non ha preso molto piede Perché l'efficienza anche qui è molto bassa Perché il motore a combustione interna comunque ha quell'efficienza Sia alimentato da benzina, gasolio o idrogeno Aumenta leggermente Però poi c'è tutto il processo di creazione di idrogeno Che consuma tantissima elettricità Quindi anche qui non è molto conveniente Allora tornando alla notizia fantomatica di questa invenzione Che cos'è esattamente? L'invenzione sponsorizzata Non è altro che un sistema che direttamente all'interno dell'auto Senza trasformarla o renderla univocamente alimentata ad idrogeno Aggiunge una cella di elettrolisi all'interno dell'auto Questa preleva l'acqua a un serbatoio di acqua distillata interna all'auto Crea quindi tramite l'acqua e tramite, attenzione, elettricità ovviamente Crea l'idrogeno necessario Questo idrogeno viene iniettato poi all'interno dei cilindri E assieme in percentuale rispetto alla benzina consumata dal motore Per esempio se è un motore che attualmente ha benzina Invece di iniettare il 100% di benzina Si inietta un 70% di benzina E quel 30% mancante si inietta idrogeno Quindi in realtà l'invenzione reale di questo tizio è un sistema ibrido Cioè non diventa esclusivamente alimentata ad acqua la macchina Ma è un sistema ibrido Quindi non può funzionare senza il motore classico Senza la benzina classica Altra parte che viene spesso sottovalutata dall'auto Non è un'auto ad acqua Perché l'acqua da sola non fa un bel nulla Non crea idrogeno l'acqua da sola Non è che metti l'acqua in una cella di elettrolisi E da sola si trasforma in idrogeno Assolutamente no Serve una certa quantità di energia Molta quantità di energia In base a quanto idrogeno devi produrte E questa energia elettrica da dove la prendi in un'auto? In genere nelle auto con motore a benzina Viene prodotta dall'alternatore L'alternatore a sua volta viene mostro dal motore stesso Quindi stiamo utilizzando una parte di potenza del motore Per generare elettricità Che viene utilizzata per generare idrogeno Per poi essere utilizzato per alimentare il motore Non è una cosa che ha molto senso A livello proprio meccanico A livello di efficienze Di rendimento del sistema Non è una cosa che ha molto senso Altra cosa che si trascura del sistema Il costo Ragazzi se è un sistema che vi rende un'auto ibrida In questo fantomatico modo Quindi secondo il progettista Vi fa risparmiare carburante Ma anche qui Il discorso dell'elettricità prodotta prima È comunque un carico in più sul motore Quindi non è detto in realtà Che si risparmi tutto questo carburante Ok magari qualche emissione in meno Però il costo Se il costo non è scalabile Non è industrializzabile Non è attualmente insomma A livello di prototipo È una cosa assolutamente inutile Se deve costare 5.000 euro ovviamente il sistema Capite bene che è un sistema che non ha senso In realtà esistono in commercio Una serie di queste tipologie Che chiamano aossidrogeno Ne ha recensite anche il buon caro Emma Motorsport Però diciamo che comunque Si possono aiutare su macchine vecchie Ma comunque il discorso principale È che non esiste un'auto che vada ad acqua Non è un sistema che vi rende l'automobile Indipendente dalla benzina Non è un sistema che può far andare un'automobile ad acqua Perché oltre l'acqua ci vuole Per forza l'elettricità Quindi se noi vogliamo produrre dell'idrogeno Direttamente a bordo della vettura Quindi per alimentare un motore Per esempio a combustione interna Quindi avere un idrogeno interno Al combustion engine vehicle Come vi dicevo prima Senza ricaricare di idrogeno Ma producendo l'idrogeno Mettiamo caso direttamente a bordo Dovremmo avere un grandissimo serbatoio d'acqua distillata Dovremmo avere una fonte di energia elettrica importante Quindi per esempio una batteria di unidilidio Che a sua volta andrebbe ricaricata dall'esterno Poi questa trasformazione Trasforma in idrogeno L'idrogeno è un motore a combustione interna A sua volta con un rendimento del 30% Forse l'intero processo può avere un rendimento veramente bassissimo Messo dentro un'automobile A quel punto ovviamente ha molto più senso Avere un'auto elettrica Ricaricare l'auto elettrica e basta Quindi spero sia chiaro un po' il concetto Che c'è dietro questa tipologia di comunicazione Proprio sbagliata Proprio concettualmente sbagliata Va al cuore delle persone Per chi dice l'innovazione rivoluzionaria L'ingegnere italiano che nessuno vuole ascoltare Perché le lobby del petrolio non vogliono Ma in realtà spesso si tratta di affermazioni Non del tutto veritiere Un po' mascherate Quindi spero sia stato utile Se avete altre bufale da segnalarmi Al tema automobilistico Ingegneristico Scrivetele nei commenti Che magari iniziamo una nuova serie di smonta bufale Un po' per dare aiuto a chi Magari incappa In questa tipologia di comunicazione Ho fatto un video sulle auto elettrogeno Lo pubblico qui Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se vi sono piaciuti i contenuti E ci vediamo al prossimo approfondimento Ciao